I fuochi di San Donato si faranno ovviamente nel pieno rispetto delle misure anticontagio, quinte mascherine e distanziamento sociale. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Sono felice di dare ancora una buona notizia alla città. Anche quest'anno potremmo festeggiare San Donato con il tradizionale spettacolo pirotecnico, tanto atteso da tutti noi, ha dichiarato il primo cittadino. Una decisione presa in pieno accordo con il prefetto e in piena collaborazione con la questura di Arezzo. In questo anno così particolare prosegue il sindaco poter confermare un appuntamento così sentito come la più festosa manifestazione d'affetto verso il nostro santo patrono assume un significato tutto speciale, un'iniezione di energia per la nostra bellissima città pronta a ripartire. Lo spettacolo pirotecnico per il secondo anno consecutivo sarà curato dalla Fondazione Arezzo in Tour e si svolgerà come di consueto dalla Fortezza Medici a giovedì 6 agosto. Lo spettacolo già si preannuncia particolarmente suggestivo, omagerà infatti la giostra del Saracino lanciando in cielo i colori dei suoi quartieri e con essi quello dell'oro ad evocare così la caratteristica produttiva più tipica del territorio aretino. In osservanza delle normative anti-covid infine l'accesso alla tradizionale platea del Prato sarà consentito solo con mascherine indossate e nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. Numerosi saranno gli steward che assieme agli agenti della Polizia Municipale e dalle altre forze dell'ordine sorveglieranno sul regolare svolgimento della serata.